Avete presente il vento? La leggerezza con cui passa sulle cose e le trasforma. Ora, pensate alle dune del deserto o all'erba alta della savana che si piega al suo passaggio. Il vento consuma le montagne. Ora pensate di essere voi il vento e che niente possa fermare la vostra corsa. Ascolta il tuo cuore. Devi imparare a correre anche con le trasce. Così, così. E corri cazzo, no? Corri! Chiama quel dottore, fatti dare la roba. Questa cura alza di molto i livelli di matocrito nel sangue. Poi hai già un cuore di atleta che batte molto lentamente. Il rischio serio è quello di una trombosi. Guarda che c'è lì, ma è un ragazzo pulito. Non c'entra niente con il vostro schifo di morte. Max! Che fai? Max! Che fai? Max! Max! Andate! Max! Andate fuori! 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 Fuori!